Quattro cavalieri dell'apocalisse, quindi uno, due, tre e quattro. E il bianco cavallo della pace e la c'è Montanelli, scultura di Vito Tongione del 2002. Beh, da giovane, da giovane non era così pelato. Allora, no, da vecchio sì. La lettera 22. Questa è la parte che non si vede mai. Seduto su un mucchio di giornali. Questa è la parte che non si vede mai.